27 corrieri arrestati oltre un quintale di droga sequestrato. È il bilancio dell'operazione che la Guardia di Finanza ha messo a segno tra l'aeroporto di Fiumicino e gli scali di altre capitali europee. Le fiamme gialle, in concomitanza con il calo di arrivi registrato durante il lockdown, avevano avviato un monitoraggio dei voli provenienti dai maggiori paesi produttori di stupefacenti. Sono state quindi contattate le autorità competenti degli stati interessati per attivare controlli nei confronti dei soggetti ritenuti più a rischio. I sospetti dei finanzieri hanno trovato conferme quando i corrieri, giunti a destinazione, sono stati trovati in possesso di oltre 80 chili di cocaina ed eroina presso gli aeroporti africani, Malawi, Kenya ed Etiopia e europei di Ginevra, Bruxelles, Parigi e Amsterdam. Sei persone sono state fermate con la collaborazione dei funzionari dell'Agenzia delle Docane con 24 chili di droga al seguito. Lo stupefacente, immesso sul mercato, avrebbe fruttato ai trafficanti oltre 50 milioni di euro. Grazie a tutti.